40 studenti di Eppolo Video diventano attori grazie alla formula del teatro di produzione. Il 21 dicembre alle 10.30 nell'ambito del progetto Teatro Caniglia, teatro di produzione, promosso da MetaPS in partenariato con il comune di Sulmona, andrà in scena una produzione originale realizzata interamente da ragazzi e ragazze grazie all'attivazione di un laboratorio di scenografia, un laboratorio di sartoria, un laboratorio di recitazione, ma anche prassi scenica, che hanno condotto i partecipanti in un percorso dall'alto valore formativo, poiché è capace di renderli protagonisti parte attiva delle varie fasi di realizzazione di una produzione teatrale. Furco della pièce sono le opere di Ovidio Publionasone, di cui il regista Mario Massari ha sapientemente proposto una riduzione, creando immagini dall'alto valore simbolico, così da trasmettere ai ragazzi e alle ragazze partecipanti al laboratorio, nonché al pubblico, l'attualità che ancora permea gli scritti del sommo poeta. L'Istituto dell'Istruzione Superiore Ovidio Meta a PS, grazie alla proficua collaborazione estaurata da anni, che ha come obiettivo la formazione dei giovani non solo come studenti, ma anche come persone e cittadini consapevoli delle proprie capacità, offriranno dunque alla cittadinanza un momento di condivisione culturale attraverso lo sguardo di giovani che osservano il futuro, consapevoli del passato e delle proprie capacità.